Allora, siccome a me le conclusioni tragiche non mi sono mai piaciute, no? Ecco, io a questo punto qua dovrei cominciare a dire, signore e signori, grazie, penta, salve, appuntamento, l'anno prossimo, ecco. Però, questa sera, mi arrivo a un ciccinino, ecco, a dire una cosa del genere. Allora, per coronare degnamente questo saluto alla grande, io vorrei invitare ancora su questo palcoscenico, vorrei regalarvi un bis, vogliamo fare la canzone precedente, quindi, Back in Black? Sì o no? Allora, li accogliamo e riproponiamo questa bellissima canzone della CDC, Back in Black. Back in Black? Allora, li accogliamo e riproponiamo questa bellissima canzone? Back in Black? Allora, li accogliamo e riproponiamo questa bellissima canzone? Allora, li accogliamo e riproponiamo questa bellissima canzone? Allora, li accogliamo e riproponiamo questa bellissima canzone? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.